Il Corteo Modenese o la Modena Parade è un progetto di partecipazione popolare anche questa idea di una festa che è un percorso collettivo che va dal cimitero nuovo di San Aldo, il famoso cimitero di Aldo Rossi, fino alla palazzina dove c'è la mostra. Questo percorso, la prima cosa che abbiamo visto negli ultimi tempi con il Covid, questo tragetto verso il cimitero, c'è questa idea di fare il percorso all'inverso, nell'altro senso, questa è la prima cosa, di festeggiare anche questo percorso che si fa in un modo diverso. L'idea è di, soprattutto quelle cose importanti sono di recuperare, che sembra urgente e necessario, recuperare lo spazio pubblico, la strada e anche dare a vedere le immagini della morte che, durante questo tempo, non abbiamo neanche visto, ne abbiamo parlato tantissimo, ma tentare di fare un catalogo di immagini di quello che nella nostra cultura parla della morte. È molto importante la partecipazione popolare, io porto questa idea di questo corteo, ma nell'ideale sarebbe che questo diventa una tradizione popolare, che i cittadini la prendono come qualcosa sua e che gli elementi che partecipano del corteo sono fatti per i cittadini. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!